Facciamo il punto sulla giornata di allenamento di oggi, il secondo allenamento della settimana per preparare la sfida di domenica, il primo che vede tornare in gruppo Wesley Snyder. Infatti nell'allenamento di quest'oggi Wesley ha effettuato per la prima volta, dopo l'infortunio, dopo il colpo ricevuto nella partita contro il Palermo, è tornato a lavorare con i compagni. Riscaldamento, lavoro di tecnica individuale, tattica a gruppi, quindi a reparti, difesa, fase difensiva e fase offensiva e poi partitella conclusiva a campo ridotto. Con un gruppo che oltre al ritrovato Snyder ha visto per il secondo giorno Alvarez lavorare con i compagni, Forlane e Stankovic che ormai stanno lavorando quasi da una settimana in gruppo e il secondo allenamento anche per l'ultimo arrivato, il brasiliano Juan. Anche Pazzini ha effettuato lavoro dopo la giornata di ieri che aveva visto per Giampaolo effettuare del lavoro personalizzato, lavorare normalmente con i compagni. Da segnalare la presenza come aggregato anche del giovane portiere delle Vedove, portierino della formazione Berretti, e da segnalare che continua a parte invece il lavoro di recupero fisioterapico per chi invece è ai box, cioè Guarin e Walter Samuel, tanto per fare nomi e cognomi. Domani ancora allenamento programmato nel corso della mattinata, sarà il terzo e ne mancano ancora allenamento giovedì, venerdì e sabato, quindi ancora ben tre allenamenti per anieri per preparare la sfida di domenica contro il Novara. Per quanto riguarda invece le altre notizie di oggi, comprese le parole di Hernan Crespo, ospite quest'oggi ad Appiano Gentile a salutare i compagni, prima di partire forse per l'India, dove andrà a giocare per un paio di mesi, bene, l'appuntamento è quello con i notiziari di Interchannel.